Fano trovato in mare il corpo senza vita di un settantenne atti vandalici segnano il weekend del lungomare pesarese chiusura pediatria sabato sit-in di mamme al san salvatore dipendenti scuola bus senza stipendio trasporto di settembre a rischio vl incontro con i tifosi prima del ritiro in Carpegna. Carpegna Atrici e gentilissimi telespettatori ben trovati a Rossini News oggi penultimo lunedì del mese lunedì 21 agosto 2023 telegiornale che apriamo con la tragedia che ha colpito in queste ore Fano dove questa mattina in mare è stato rinvenuto intorno alle 5 e mezza il corpo senza vita di un uomo. Non si conoscono ancora le cause del decesso ma si tratterebbe di un settantenne dell'entroterra fanese. Gli accertamenti sono ancora in corso sul posto è intervenuta la capitaneria di Porto. Ancora cronaca con numerosi atti vandalici notturni che hanno segnato il weekend pesarese tra le zone del lungomare di Ponente. Bravate che ben presto si sono trasformate in danni economici per chi quegli atti vandalici li ha subiti in prima persona. Sono stati diversi gli episodi spiacevoli che si sono consumati nell'ultimo weekend pesarese dove a prendersi i ruoli di protagonista sono state probabilmente alcune ragazzate che hanno lasciato attoniti malcapitati. È successo nella notte tra venerdì e sabato nel lungomare di Viale Trieste e Lato Ponente dove i bagnini di 5 stabilimenti balneari si sono ritrovati al mattino con un'amara sorpresa. Alle prime luci dell'alba decine e decine di lettini da spiaggia sono stati rinvenuti squarciati e tagliati in più punti provocando non poco sbigottimento tra i proprietari colpiti come Riccardo di Bagni Ridolfi non nuovo a questo tipo di episodi. Anche quest'anno è successo l'importante è che queste persone che hanno fatto questo gioco si siano accontentate noi pagheremo i danni metteremo a posto la situazione tutto tranquillo come sempre va avanti sempre dagli anni da 50 anni a sta parte non è una cosa nuova però dispiace anche ai clienti hanno paura che da dire si sono fermati lì c'è niente sotto la sabbia c'è niente sopra c'è niente e sono tutte cose che in questo mondo mettono paura puoi avere un taglierino puoi avere un coltellino tipo svizzero puoi avere qualcosa però ce l'avevi ti sei messo d'accordo non è che ti è capitato sotto le tasche e adesso vado a tagliare sei o sette bagnini i lettini sono discorsi che si sono messi un po ha detto dai andiamo a fare un dispetto oppure andiamo a fare una bravata andiamo a fare una risata non lo so l'episodio si è verificato tra le tre e le sei il momento in cui la vigilanza non era presente come si potrebbe intervenire magari in futuro per evitare questi episodi come può venire cambiando una legge che ci tutela tutti sia il bagnino sia la strada sia le case da dire quando si prendono succedono queste cose qui li puoi prendere almeno per le orecchie portarli davanti a papà e mamma da dire signori questi hanno fatto dei danni le cose come le mettiamo no non puoi farlo però ci sono molti genitori che viene giù e ti dà uno schiaffo perché hai toccato il figlio come tamponata l'assenza di questi lettini in queste ultime settimane estive abbiamo altri lettini nel tempo perché tanto si tengono o per una mareggiata o per un temporale vediamo che un po di magazzino bisogna averlo atti vandalici del weekend che non hanno colpito solo viale trieste ma anche viale venezia e le vie limitrofe nella notte tra sabato e domenica il bersaglio si è spostato sulle bici parcheggiate lungo la strada ritrovate il mattino seguente dai proprietari con le gomme forate danni anche per numerose biciclette che erano state lasciate nei cortili interni dei condomini ma con il cancello dell'ingresso aperto gesti viscidi che hanno visto il loro culmine quando a qualcuno nello spazio di distributori automatici sempre aperti di via della repubblica è venuto in mente di depositare nelle cassette dei resti una quantità deplorevole di vermi si tratterebbe di larve di mosca utilizzate per la pesca provocando inevitabilmente disgusto tra i malcapitati che hanno immediatamente contattato chi di dovere per una rapida pulizia altro dramma nelle acque di fano dove ieri pomeriggio un settantenne il 20 agosto presso la spiaggia libera di torrette ha perso la vita a seguito di un malore che dopo che era stato soccorso fra i flutti del mare alcuni bagnanti avevano dato l'allarme vedendo l'uomo in difficoltà tra le onde a quel punto il personale di salvataggio è intervenuto recuperando il corpo ancora in vita portandolo in salvo arriva nel frattempo erano stati avvisati la capitaneria di porto che è intervenuta con una pattuglia ed il 118 che dopo aver prestato le prime cure ha optato per il trasferimento d'urgenza al pronto soccorso locale le condizioni dell'uomo si sono aggravate forse a causa di un successivo malore fino alla tragica di partita consumatasi al nosocomio di fano paura anche nelle spiagge di pesaro in zona sottomonte dove sempre ieri pomeriggio un 35enne di nazionalità cinese è stato trovato privo di sensi dai bagnanti che hanno immediatamente contattato i soccorsi sul posto è intervenuto il bagnino di bagni bibi che ha trascinato l'uomo sulla battigia praticandogli il massaggio cardiaco una volta arrivato il 118 il 35enne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso cambiamo ora argomento parlando di sanità continuano le polemiche su un possibile accorpamento del reparto di pediatria di pesaro con quello di fano discordanze che hanno portato il pd pesarese a programmare per sabato 26 agosto alle 11 un sit in di protesta davanti al san salvatore fa discutere e non poco la possibilità di un accorpamento del reparto di pediatria di pesaro all'ospedale di fano farà puntare i piedi alle decine decine di mamme che la mattina di sabato 26 agosto si ritroveranno per manifestare davanti al san salvatore in piazza lecinelli contro la chiusura seppur temporanea di pediatria ginecologia e ostetricia presidio organizzato dal pd pesarese con il capogruppo anna maria mattioli in prima fila a lamentare una situazione che riguarda diversi reparti che neanche nove mesi fa avevano visto una loro riapertura all'ospedale di pesaro dopo essere stati trasferiti a santa croce di fano nel lungo periodo di covid questa volta però i motivi sono diversi e l'accorpamento è dovuto allo spostamento di altri reparti dall'ospedale di muraglia in vista della nuova struttura ospedaliera che vedrà ai cantieri operativi da settembre 2024 un provvedimento che nonostante sia temporaneo e forse inevitabile per la costruzione del nuovo ospedale di muraglia genererà diversi disagi come quello di un'interruzione del primo percorso di vita del neonato tra parto e cura medica visto che il reparto nascite verrebbe comunque confermato al san salvatore disagi che potrebbero provocare un accrescimento della già ben avviata mobilità passiva verso la vicina romagna tanti dubbi su questo trasferimento li porta alla luce anche il consigliere biancani che sottolinea come lo stesso santa croce di fano necessiti da tempo di una riqualificazione pochi posti letto spazi ridotti e nessun reparto di chirurgia che potrebbero rappresentare qualche difficoltà nel caso in cui ci dovesse essere qualche emergenza emergenze alle quali invece secondo mattioli risponderebbe bene pesaro dotata di un servizio più all'avanguardia frutto di importanti investimenti fatti in passato manca a meno di un mese dell'inizio del nuovo anno scolastico e ancora una volta i lavoratori della ditta scoppio azienda che si è aggiudicata l'appalto del servizio scuolabus nei comuni di pesaro e fano lamentano gravi ritardi nel pagamento degli stipendi a mancare all'appello sono il versamento del mese di giugno e il trattamento di fine rapporto a dichiarare questa incongruenza nei pagamenti è la filta cgl pesaro urbino che ha informato di seguito la regione marche e la suam ciò che viene richiesto è un rapido intervento altrimenti a settembre potrebbero esserci dei seri problemi per la ripresa del servizio scuolabus c'è tempo fino alle 13 di venerdì primo settembre per partecipare al bando e richiedere i contributi previsti dal fondo anticrisi 2023 che l'amministrazione di pesaro ha deciso di destinare all'emergenza casa le risorse complessive pari a 250 mila euro consentiranno di sostenere le famiglie residenti nel comune di pesaro attraverso un contributo che copre l'ottanta per cento dei costi d'affitto fino a un massimo di 350 euro a nucleo beneficiario la domanda di partecipazione potrà essere presentata solamente da coloro che dispongono di un isee non superiore a 6543 euro esclusivamente in via telematica tramite il portale del comune il rigenerato piazzale gabriele d'annunzio alle sue prime settimane di vita è stato già riempito di eventi di intrattenimento che hanno colorato di divertimento le serate di numerose famiglie piazzale d'annunzio ha pochissimi giorni di vita però ha già vissuto diversi appuntamenti di intrattenimento per grandi per bambini in primo bilancio su questi giorni ma siamo abbastanza soddisfatti siamo partiti il 7 di agosto un po in maniera roccambolesca con questa piazza che però da subito è stata molto apprezzata soprattutto dai turisti ma anche dai residenti qui di zona di levante siamo partiti di corsa con le prime proiezioni di cinema d'animazione per ragazzi continueremo tutti i venerdì di agosto fino al primo di settembre e mentre il mercoledì avremo l'animazione per bambini con pesaro village e oltre a questo il giovedì sera con gimnal per la baby dance e l'attività di ginnastica per ragazzi e bambini e come associazione albergatori promuoviamo anche altre iniziative dalla mattina il pomeriggio e la sera quindi noi partiamo dalla mattina alle 8 con il risveglio muscolare che stiamo vedendo quest'anno è molto apprezzato dalle 8 alle 9 di mattina al pomeriggio dalle 17 30 alle 19 abbiamo invece attività di laboratori e ludico ricreative per i bambini e stiamo anche qui riscontrando un buon successo quindi ci auguriamo che nelle prossime giornate migliori e aumenti l'affluenza per avere per dare il meglio in queste giornate di agosto ci auguriamo che questo anche per il prossimo anno possa diventare con gli opportuni modalità e tempistiche anche una vera e propria programmazione estiva che vada da giugno a settembre venerdì 18 e sabato 19 agosto è tornato nell'antico borgo gradara wine festival riscontrando anche quest'anno gradimento da parte del pubblico con le nostre telecamere anche noi di rossini tv eravamo presenti all'evento enologico per dare vita allo speciale che potrete seguire domani sera 22 agosto alle ore 21 e 20 ora guardiamone un estratto è stata una stagione molto intensa effettivamente con due doppie decime edizioni a sede del castello e the magic house molto molto bene il pubblico ha gradito apprezzato questa doppia decima edizione di due eventi sono più identificativi di guardare non potranno chiudere in bellezza ma che dico chiudere anzi continuare anche oggi c'è parecchia affluenza questa seconda giornata di wine passion e devo fare i complimenti quindi oltre a guardare nova e al suo personale anche al connubio di vino a mirco e in compagni perché hanno fatto davvero una bella organizzazione riuscendo a superare anche quella dell'anno scorso e poi c'è un grande ritorno la musica live che è causa covid per un paio di edizioni avevamo saltato con e torna quest'anno quindi con tutt'altra atmosfera ovviamente musica jazz in due punti diversi del borgo che accompagnano bollicine vino rosso e vini bianchi e birre anche la novità di quest'anno è quella di aver suddiviso in sei aree tutto il borgo le sei aree sono contraddistinte da un colore e sono contraddistinte anche da una parte della vite e sono rappresentate viene anche descritta quella che è la parte della vita che rappresenta questo determinati punti sostanzialmente quanti produttori possiamo incontrare in questa seconda edizione di gradara wine passion in questa seconda edizione siamo 25 produttori provenienti dalla nostra provincia provenienti da una buona parte della romagna e in tutte le marche quali sono i principali vitigni e di conseguenza vini che possiamo bere questa sera sono i principali vitigni i principali vini che vengono prodotti specialmente le nostre aree quindi possiamo trovare dal biancame dal verdicchio dal per quanto riguarda i rossi da san giovese il monte pulciano c'è il verdicchio rappresentato anche dalla zona di matelica ma ci sono anche i vari internazionali cucar vengono coltivati in maniera importante quindi c'è una notevole varietà di vitigni di conseguenza che notevole varietà di vini da da provare anche cose nuove e aggiungiamo anche aziende giovani nuove che sono da poco arrivati insomma nel nostro mercato di vini provinciali quindi tante curiosità le immagini che vi mostriamo ora invece sono di quest'oggi pomeriggio e rappresentano all'esterno di baia flaminia dell'hotel baia flaminia i tifosi biancorossi che hanno potuto incontrare i giocatori della vl che si apprestavano a partire per il consueto ritiro di carpegna ultimo giorno a pesaro per la squadra di coach buscaglia dove sono state effettuate le visite mediche e poi la partenza verso l'inizio della nuova stagione un momento per i fan biancorossi per scattare foto ricevere autografi e conoscere da vicino anche i nuovi acquisti augurandogli il meglio in vista delle amichevoli precampionato concludiamo dal basket al calcio a 5 con l'ital service che ha presentato in via ufficiosa ai propri tifosi il nuovo acquisto miguelin stella spagnola con grande esperienza internazionale siamo molto contenti e molto soddisfatti di presentare oggi in via ufficiosa poi ufficialmente lo faremo anche giovedì però diciamo che questo è un bellissimo incontro anche con i tifosi miguel è un giocatore di fama mondiale uno dei più forti giocatori al mondo e quindi per noi è motivo di grandissimo orgoglio averlo qui a pesaro una grossa soddisfazione e perché ecco portare qui in italia un giocatore di una fama così importante ci rende molto molto orgogliosi e ci siamo conosciuti da poco però visto che già si è trovato bene si è ambientato bene quindi la cosa ci rende molto felici e speriamo speriamo così di fare una stagione bella importante e speriamo che miguel stia con noi per tanti anni questa è la nostra speranza per prima cosa grazie a Lorenzo Pizza per tutto quello che ha fatto per me e per la mia famiglia siamo molto contenti ringrazio i tifosi che sono venuti ad accogliermi anche questo per me è motivo di orgoglio sono molto entusiasta e desideroso di iniziare ad allenarmi e competere con i miei compagni non vedo l'ora di unirmi a loro e conoscerli e di poter vivere una stagione molto positiva grazie soprattutto alla famiglia Pizza per l'accoglienza che credo sia fondamentale c'è tanta fiducia in loro e nel progetto siamo in chiusura anche questa sera prima di congerarvi diamo un'occhiata al palinsesto di Rossini TV il Green Tour ci porta a Frontino la replica delle fortunatissime trasmissioni condotte da Nicoletta Tagliabracci questa sera in prime time alle 21.20 e con le repliche che vediamo in sovraimpressione l'appuntamento con l'informazione rimandato a domattina come sempre in diretta non soltanto attraverso il canale 80 ma anche attraverso la nostra pagina Facebook potete seguire il collega Antonio che vi racconterà le notizie fresche di giornata pubblicate dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino vi lascio ora alle previsioni del meteo vediamo cosa ci riserva per la giornata di domani questo solleone vediamo se le temperature continuano ad essere così affose l'appuntamento con Rossini News è rimandato come sempre a domani sera sempre alle 19.30 buona serata e non cambiate canale